Cosa devo fare? Niente, riposati. Non sono una che al lavoro si riposa. Sicuro? Non è che poi ti vai a lagnare con l'ingegnere. Vi siete fatti da sbagliata, io non mi sono mai lagnata con nessuno. Lavora pure lei in Fiat, ma hai piani alti, eh? Si sta laureando in matematica. Mi hanno sempre fatto paura, Volino e Zer. Scommettiamo che se mi vedi da vicino non ti faccia più paura. Sai quanto durerà? Non mi importa quanto durerà, mi importa oggi. Ma cos'è? Mi piace il clima della barricata? Ti eccita. Lo vedi come un ribelle mentre io sono solo un burocrate. Non ci sta più la testa, sta facendo solo minchiate. Non sono fatti nostri. Rinuncia a lei. Io posso salvarla, se lei salva Emma. Ho solo te nella testa e mi scivo lì giù, nella bocca. E ancora più giocare le mani. Non ci sta più la testa, non ci sta più in me. E ancora più le mani. Non ci sta più in me. Non ci sta più in me. Non ci sta più in me. Ah! Grazie per la visione